Automobili con le gomme tagliate, sportelli graffiati e danneggiati, probabilmente la conseguenza delle denunce pubbliche di occupazioni abusive e di spaccio nella zona di via Rigopiano a Pescara, dove è tornato ancora una volta il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari. Qui la situazione è grave, ci sono persone che hanno ricevuto anche bollette dai 500 euro, ma perché? Perché ci sono al danno la beffa cittadini delinquenti forse, pregiudicati, che si allacciano abusivamente alla corrente elettrica, all'acqua, quindi rubano l'acqua, rubano la corrente elettrica e quindi costringono poi i cittadini onesti a pagare per loro e a pagare di più le spese condominali perché si allacciano alla corrente elettrica. Ma non solo, qui ci sono abusivi, l'annuncio eclatante qual è? Siccome io ricevo centinaia e centinaia di telefonate, ho detto, e qui non cambia nulla, se entro un mese le cose non cambiano, vorrà dire che metterò a disposizione la mia vita, mi confronterò io con questa gente, quando vengo chiamato, perché io vengo chiamato e mi si dice guarda che lì c'è questo allaccio abusivo, c'è un problema, vado io personalmente a confrontarmi, se in Italia bisogna fare questo, bisogna mettere a disposizione la propria vita affinché qualcosa si muova, ecco io voglio dire oggi che sono disposto anche a questo. O si fa subito un presidio fisso di polizia, sfratto degli occupanti abusivi, verifica dei requisiti e cacciare fuori dalle case popolari coloro che non ne hanno diritto, oppure noi assieme a questi cittadini onesti ci confronteremo e poi accada quello che accada. Anni fa con grandi battaglie siamo riusciti a far sfrattare 20 abusivi, qui però ci sono 20 case vuote, non sono state assegnate, c'è anche il pericolo che tornino all'interno di queste case, per oggi rimangono ancora 3-4 abusivi, il problema permane, lo spaccio di droga c'è notte, giorno, i delinquenti ci sono, i furti di energia elettrica a carico di cittadini onesti ci sono, quindi il quartiere sta ripiombando nel caos. Il mio messaggio penso e voglio che arrivi anche a livello governativo perché chi è preposto alla sicurezza e all'ordine pubblico dovrebbe secondo me fare di più. Perché poi si sa chi è che si allaccia abusivamente. Si sa chi è, basta seguire il filo, a me chiamano, dicono guarda che c'è il filo attaccato lì che va all'interno di un'abitazione, ma io le segnalazioni le ho fatte, ho segnalato civico, interno, numero, tutto. Ne ho fatte almeno una trentina negli ultimi tre mesi, a Comune, a Polizia Municipale, ho fatto le segnalazioni, le ho fatte, purtroppo non si muove nulla. Anche l'ACA non rispetta chi chiama per venire a controllare. Allora, sono stati chiusi parecchi contatori, che si mette, si sfida il contatore, si mette un tappo davanti al tubo e l'acqua non la ricevi. L'hanno smontato, hanno trovato quel tappo e accendono l'acqua di nuovo. Io l'ho richiamato, non sono venuto. Cosa facciamo? Grazie.